Dopo una pausa per le mie meritatissime, direi ferie, nel senso che sono stato via e mi avete scritto in parecchi, soprattutto per l'uscita delle graduatorie SSM e quindi il fatto che ci sono stati i soliti problemi che tutti gli anni ci sono, cioè la desertificazione della specializzazione in medicina di emergenza in urgenza, così come di altre problematiche anche su anestesia eccetera eccetera, ma comunque MEU è la catastrofe solita. D'altronde mi viene da dire che a fare continuamente la stessa cosa, aspettarsi risultati diversi sia quantomeno segno di follia. Se tu fai la stessa cosa, nello stesso modo, ovviamente otterrai un risultato, se non uguale, assolutamente molto simile e quindi con buona pace della Simeo, con buona pace delle associazioni, degli specializzanti eccetera eccetera, finché non si capisce che questa strada è sbagliata e va corretta, non otterremo risultati diversi. Questo video di oggi è un po' forse lungo, ma necessita di una serie di riflessioni che volevo condividere perché mi sono state chieste e come fare a risolvere questo problema dell'emergenza in urgenza. Allora, la questione parte da lontano. Parte purtroppo da una visione che è stata ideologica di costruire e strutturare, e l'abbiamo visto in quello che mi sono rifiutato di commentare, evento che c'è stato al Ministero, l'hanno commentato a sufficienza anche gli specializzanti in medicina di emergenza, dicendo peste e corna, mi hanno scritto in diversi colleghi specializzanti in medicina di emergenza e furgenza, dicendo ma come non dici niente su questa cosa, ho detto guarda, sono incommentabili, incommentabili. Quindi la questione lì del promo, dei video di promozione della scuola, c'è una cosa fatta dal Ministero con la presenza anche delle scuole di specializzazione, i direttori della scuola di specializzazione, la Simeo, c'è una roba che a me ha fatto agghiacciare. Agghiacciare perché? Non perché ovviamente ci sia una cosa cattiva, brutta, ma perché vuol dire che non si continua a comprendere qual è il problema della medicina di emergenza. Non si continua, cioè si continua a non, scusate, non si continua a non voler andare al nocciolo del problema, si continua a non voler ammettere che ci sono stati degli errori strutturali nella progettazione di questo percorso, che oggi si pagano amaramente, ma non li paga solo chi ha creato questi errori, li pagano tutti i cittadini che si trovano dei problemi nei servizi, li pagano i medici che si trovano con delle scuole di specializzazione che non gli danno delle prospettive, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, perché, come è stato detto in quell'incontro al Ministero, si dice è stata creata la scuola di medicina di emergenza, è stata una volontà, no? Una paternità l'ha avuta la simele. Bene, cosa succede? Che sappiamo per tanti anni c'è stata una spinta a voler creare questa scuola, non che sia di per sé una cosa cattiva, ma bisognerebbe inserirla nel contesto reale dell'Italia, nel contesto reale di come le persone oggi ragionano, di come i ragazzi sentono, e del fatto che è un paese che ha delle grosse problematiche nella struttura dei contratti e nella struttura degli incarichi del personale del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dai problemi di finanziamento, ma proprio per i problemi di organizzazione e di decisione di modo, di modello organizzativo. Questo è il tema che nessuno vuole toccare, perché ci sono interessi di vario genere, anche dal lato sindacale, eccetera, e dall'altro lato però ci sono coloro che dovrebbero andare a lavorare che non ci stanno andando. O meglio, non ci stanno andando con il tipo di modello, il tipo di percorso che è stato pensato dal servizio pubblico. E finché non si tocca a quel tema lì, non se ne esce. Se nessuno vuole più lavorare con quel contratto, un motivo ci sarà. E non è solo una questione di soldi. Quindi dobbiamo riflettere su questo e dobbiamo capire che in un anno ci sono 365 giorni e ci sono in questi 365 giorni almeno 52 domeniche più le altre feste comandate e almeno 365 notti. Ok? Rispetto al mondo normale, rispetto al normale mondo del lavoro, chi sceglie, come ho fatto io, un'area dell'emergenza-urgenza sa, sa e deve accettare come vantaggioso, o non dico vantaggioso, come dato di fatto che circa la metà del tempo in cui questa persona lavorerà, sia di giorno sia di notte, sarà in orari in cui nessun altro vuole lavorare. e quindi devi fare in modo che questa consapevolezza sia conosciuta, accettata e resa appetibile per coloro che devono lavorare nell'emergenza-urgenza, perché lavoreranno almeno la metà del tempo della notte, perché la giornata è di 24 ore, le persone normali lavorano dalle 9 alle 5, dalle 8 alle 4, insomma, lavorano 7 ore al giorno da lunedì e venerdì, ok? hanno i weekend liberi, hanno le feste comandate libere, hanno spesso ad agosto le ferie, hanno invece qui, sei nell'emergenza-urgenza, lavori, come in tutti i servizi pubblici essenziali di soccorso, lavori 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi più della metà del tuo tempo lo trascorrerai a lavorare in orari in cui gli altri sono a casa con figli, famiglie, con i bambini, o con i weekend passati con la famiglia, ok? Di questo nessuno parla, nessuno vuole ascoltare questa cosa, ma è uno dei problemi, uno, perché ce ne sono molti altri che invece derivano dalla cocciutaggine, della mancanza di visione di chi vuole progettare determinati modelli, insostenibili. Quindi, il primo tema è questo, cioè, tu hai uno uguale contratto, uguale stipendio, ma, a differenza di tanti altri settori, che pur fanno le notti, pur fanno i festivi, perché non è che lo fanno solo i medici del pronto soccorso, la medicina d'urgenza, lo fanno tutti i medici ospedalieri, ma attenzione, quelli che spesso fanno veramente la notte in piedi, tutte le notti, con un volume di attività che è stato stimato in cinque volte quello delle altre unità ospedaliere, sono i medici di pronto soccorso, che sono quelli più esposti all'errore, sono più esposti a pazienti che non hanno mai visto prima e che vedono per la prima volta in quel momento, e che trattano una quantità di patologie e di situazioni estremamente ampia. non è che sono il cardiologo che fa la parte del cuore, non è che sono l'ortopedico che fa la parte muscolo-scheletrica, loro trattano dall'asma al problema cardiaco, al problema pediatrico in alcuni casi, al problema, dipende da dove lavori, quindi questo è uno dei temi cruciali. Tu non puoi avere cose diverse trattate tutto sommato nello stesso modo, con questi carichi di lavoro e questo sistema. la seconda cosa che non si vuole capire è che il sistema deve essere sostenibile. La carriera lavorativa di un medico, oggi, che ha molte meno prospettive di carriera per il taglio dei primariati, la chiusura degli ospedali e quindi anche la possibilità di carriera che è stata distrutta, perché si concentra su poche unità. L'incarico di direzione, l'incarico gestionale, l'incarico di alta professionalità, si riducono. Perché? Perché sono state riorganizzate le reti ospedaliere, quindi tu vai in un settore dove ti fai un culo come un secchio e dove la possibilità di carriera è estremamente limitata rispetto allo storico. E già nello storico nessuno ci vuole lavorare, quindi facciamoci già delle domande. In più, mi dispiace perché alcuni colleghi si offenderanno per questo, ma è una classe dirigente che purtroppo è vissuta in un'altra epoca. Ha vissuto in un mondo in cui neanche c'era il cellulare, è vissuto in un mondo come in parte anche quelli della mia generazione che sono nati dove per andare dall'amico suonavi il citofono e non avevi il cellulare mandandogli un sms e quindi fanno fatica essendo cresciuti in un mondo con determinate regole con determinati percorsi a gestire invece il grande cambiamento culturale, mentale e di approccio che hanno le giovani generazioni. E già qua dico che per esempio io che ne ho 40, 41 rispetto ai colleghi più giovani già c'è un grosso gap ma immagino per chi oggi ne ha 50 o 60 e che si trova in situazioni di direzione. C'è un'enorme differenza. Valori diversi, sistemi di decisione diversa, sistemi proprio di approccio alla vita professionale diversa. Bilanci vita-lavoro che hanno assunto un'importanza molto, molto, molto maggiore rispetto a quello che era il passato. Ok? E queste direzioni continuano a fare l'errore in buona parte del paese a non capire che se continuano a lamentarsi ma continuano a fare le stesse cose nello stesso modo otterranno gli stessi risultati inutili che hanno ottenuto fino ad ora. Entro nel merito. Il primo è cercare invece di risolvere i problemi del pronto soccorso e delle medicine d'urgenza cercare di accalappiare i medici dicendogli che faranno anche altri lavori che non sono quello dell'assistenza ospedaliera di emergenza di urgenza per esempio che faranno anche la semi-intensiva da un lato che faranno anche l'emergenza territoriale dall'altro e questo è un tema che voglio affrontare nel dettaglio perché è un vizietto che sta venendo fuori sia per la parte di medicina di emergenza di urgenza sia per la parte di anestesia in alcuni casi. Tutti che vogliono fare tutto prometto che se vieni a lavorare da me farai anche un altro lavoro come se tutti i cardiologi che io assumo in un ospedale a turno facessero anche un giorno ogni tanto l'emodinamista o come se il cardiologo che assumo tutti a turno un giorno facessero anche la ritmologia e le ablazioni quindi tutta la parte più interventistica allora è ovvio che qui c'è un tema molto 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 attuale oggi con anche i pochi specialisti meo che esistono nel paese di persone a cui è stato promesso che avrebbero fatto delle cose ma non tutti i modelli regionali giustamente prevedono gli inquadramenti contrattuali per farli o il modello organizzativo per farlo perché c'è un'assistenza territoriale c'è un'assistenza ospedaliera ci sono contratti diversi ci sono organizzazioni diverse ma soprattutto al di là della questione contratti e inquadramenti che è probabilmente una parte significativa importante ma secondaria il problema reale è che tutti fanno tutto vuol dire che tutti fanno tutto meno bene di quanto potrebbero fare facendo bene una cosa con carichi sostenibili e questo è una grande purtroppo verità scomoda che tanti non vogliono sentirsi dire perché? perché per tanti anni si è pensato che il medico di pronto soccorso che fa anche il 118 o viceversa è un arricchimento professionale aumenta le skill il poco che c'è in letteratura dice esattamente il contrario perché? perché pur essendo cose affini cose simili facevo l'esempio prima del cardiologo che è ovvio che fa sempre cardiologia ma oggi nessuno riesce a fare tutto della sua branca specialistica a maggior ragione in una branca come medicina d'emergenza dove c'è di tutto non puoi contemporaneamente tenerti aggiornato occupato su percorsi di trattamento introspedaliero di inquadramento diagnostico eccetera tipico dell'ospedale magari andando a fare i corsi per calarti con le funi e con le corde stando in preospedaliero e questo non vuol dire che non si possa trovare in qualche luogo il modello che funziona in qualche luogo sì ma a quale costo al costo di perdere di perdere l'omogeneità del livello di assistenza su un intero territorio perché? perché io non posso pensare che un medico che oggi assunto in un ospedale X magari dentro una grande città possa fare contemporaneamente o in momenti diversi sia i turni in ospedale sia i turni in territorio facendoli non solo in città ma facendoli anche ruotando tra la provincia e la città perché non possiamo pensare che chi è in città faccia sempre solo i grandi volumi di attività magari con brevi interventi di soccorso ex ospedaliero e non vada a portare quella clinical expertise anche nelle aree territoriali più esterne e quindi vorrebbe dire che il medico ospedaliero che sceglie questo modello in un modello serio dovrebbe fare turni nel pronto soccorso AB turni nel pronto soccorso SPOC turni nel 118 AB turni nel 118 SPOC quanto stai nella tua struttura di lavoro quanto sei legato al tuo punto di lavoro diventi una roulette diventi una scheggia impazzita che gira da una parte all'altra perdendo ovviamente il contatto con i percorsi avendo sempre meno confidenza con tutta quella che è quella parte organizzativa fondamentale e soprattutto non riuscendo a essere aggiornato su tutto non c'è ginecologo che fa tutti i giorni tutte le cose dalla non so dalla assistenza per l'infertilità al cesareo all'oncologia ginecologica un giorno fa una cosa un giorno fa l'altra un giorno fa quell'altra ci si tende a focalizzare perché perché è meglio così perché si deve scegliere o faccio questo o faccio quello oppure devo avere dei punti diciamo estremamente bilanciati che però consentano poi di fare il bene del sistema non il bene solo del capriccio di quel momento o addirittura non dico solo del capriccio ma anche della favola che questa cosa sia sostenibile sul lungo periodo perché non è sostenibile tra le altre cose io vengo da una regione in cui questa cosa è stata provata vent'anni un disastro un disastro perché ti trovi personale chi vuole fare un po' di turni di qua un po' di turni di là poi facevano due lavori in contemporanea poi chi sta in città sta solo in città e si fa un culo come un secchio chi sta in montagna vive degli ospedali dove non ci sono i consulenti dove non ci sono le strutture con tanta e però non riesce a fare tutto comunque insomma diventa un putiferio bisogna dare invece sicurezza e chiarezza che consentano ai professionisti di avere una vita organizzata scegli di stare in ospedale stai in ospedale scegli di stare in territorio stai in territorio laddove ci siano sistemi sanitari estremamente piccoli dove effettivamente ci sono due sedi e puoi anche provare a fare qualche rotazione ma tutti tutto non riescono a fare perché tutti tutto non riescono a tenerlo aggiornato non riescono a tenerlo sul pezzo non riescono a farlo tanto bene quanto si dovrebbe e potrebbe fare anche perché questo per i servizi tutti di anestesia di medicina d'emergenza ospedaliera eccetera sta creando un paradosso nel quale in uno dei servizi più difficili come il 118 soprattutto quelli magari provinciali quelli lontani dagli ospedali di riferimento dove devi vedere tutto dal neonato prematuro col parto precipitoso all'anziano centenario con tutti i problemi traumatici e medici acuti possibili si sta dicendo che noi quel servizio lì diciamo che lo possono fare tutti in qualunque momento senza ovviamente garantire che tutti possono avere le stesse qualifiche skill e qualità perché lo dico perché tu nel sistema ospedaliero una volta che hai fatto l'assunzione che tu abbia fatto geriatria che tu abbia fatto medicina interna che tu abbia fatto cardiologia medicina d'emergenza o qualunque altra delle tipo allergologia delle 42 specializzazioni in cui poi lenti affini una volta che sei assunto come dirigente medico di medicina d'emergenza sei sullo stesso piano uguale sono tutti medici di medicina d'emergenza quindi questa cosa che alcuni direttori soprattutto della Simeo dicono prendiamo il geriatra lo schiaffiamo in ambulanza poi magari il geriatra nella squadra di geriatria non ha mai avuto la possibilità di imparare a gestire determinati farmaci determinate attrezzature determinate strutture perché non fanno parte del core curriculum di geriatria e soprattutto non hanno nulla che fare con l'assistenza extra ospedaliera pre ospedaliera mentre in ospedale magari chiami c'hai l'anestesista c'hai il collega di fianco fuori te sei da solo sostanzialmente e se hai la giornata brutta in cui c'è il meteo avverso eccetera anche l'elicottero con magari il medico più esperto che può essere il rianimatore il medico di emergenza territoriale più esperto non riesce ad arrivarti a darti un supporto quindi stiamo dicendo che uno dei lavori più ampi e difficili come tipo di casistica e come difficoltà logistica organizzativa esterna può essere un lavoro fatto da chiunque passa magari per un turno al mese due turni al mese è un sistema demenziale che ovunque sia stato inserito non funziona magari soddisfa alcuni ego soddisfa alcuni desideri ma non funziona sul lungo periodo anche perché che cosa ha comportato questa cosa la desertificazione del mondo medico nell'emergenza pre ospedaliera perché perché il governo del sistema non è di chi passa lì uno o due turni ogni tanto ok e da qui il problema di task shifting da qui il problema di gestione anche del conflitto tra professioni e tra chi dovrebbe governare o meno un sistema ok quindi qual è la ricetta qual è la ricetta per mettere a posto tutto questo la ricetta è complessa e passa sicuramente da modifiche normative ma passa anche dalla chiarezza nel modello organizzativo che si vuole avere bisogna tener presente che anche discipline che sono affini faccio l'esempio in questo caso di cui stiamo parlando dell'emergenza territoriale dell'emergenza ospedaliera sono discipline assolutamente affini ma sono lavori diversi sono lavori distinti prevedono un approccio di ragionamento pratico distinto il medico di pronto soccorso può anche non sapere cos'è un Kendrick Estrication Device piuttosto che un XT piuttosto che determinati farmaci che in setting magari si usano in setting anestesiologico invece che in setting di pronto soccorso ci sono mille distinzioni mille differenze tra i due servizi che pure sono affini perché poi voglio dire la medicina è quella i malati sono quelli ci sono affinità anche con la cardiologia anche con la pneumologia ci sono affinità di mille tipi ma sono lavori che prevedono pezzi di percorso diversi e bisogna dare delle certezze ai professionisti non promettere specchietti per le allodole per attirare i professionisti e questo bisogna farlo anche nel rispetto dei contratti di lavoro e qui vengo al punto importante che dicevo prima perché nel momento in cui si creano questi sistemi misti in cui ci sono le cooperative in cui c'è un po' di contratto di convenzione un po' di contratto di dipendenza un po' di liberi professionisti un po' di cooperative è un putiferio è un putiferio perché tutte le previsioni e prescrizioni contrattuali di reperibilità di pronta disponibilità di copertura delle malattie di gestione delle ferie della 104 del TFR non ultimo con l'ultima legge delle aliquote della tassazione dell'attività aggiuntiva non si sposano un contratto con l'altro e quindi questo crea attrito nelle equip professionali e quindi bisogna dire che le equip professionali devono ognuna fare il proprio lavoro chi ospedaliero in ospedale chi territoriale in territorio ognuna avere i suoi percorsi che devono essere cristallini e non fuffosi ok e bisogna smetterla anche di raccontare questo è uno dei problemi delle promesse malfatte da alcune società scientifiche che siccome in un core curriculum di una scuola di specializzazione è previsto anche quello allora quello diventa un diritto farlo perché questo è un problema è una possibilità ma dipende tu hai fatto la formazione io mi posso formare io faccio il cardiologo e faccio la formazione per tutta la cardiologia poi però il lavoro che vado a fare se faccio lo specialista ambulatoriale farò un lavoro se faccio il dipendente ospedaliero e vado in emodinamica faccio un lavoro se faccio il dipendente ospedaliero e faccio il reparto o faccio un'attività ambulatoriale ne faccio un'altra cosa cioè non è che tutti siccome hanno fatto un percorso di studio non è che l'anestesista che ha fatto la scuola di anestesia e animazione deve fare tutto deve fare dall'anestesia in neurochirurgia deve fare la wake surgery oppure deve fare la rianimazione deve fare il 118 deve fare l'elicottero deve fare il prozo ognuno ha un background formativo poi decide quale fetta più o meno ampia nell'ambito del contratto che sceglie deve fare questo è un principio che noi oggi ci troviamo a dover affrontare perché purtroppo con un atteggiamento diciamo un po' che io capisco nella disperazione di alcune direzioni per trovare il personale è un tentativo di convincere le persone ma è un tentativo che dura da Natale a Santo Stefano perché quelli non sono modelli che si sostengono sul lungo periodo e soprattutto sono modelli che si sono già provati con e senza la specializzazione MEU e che non hanno funzionato non hanno funzionato e hanno creato unicamente casini trovatemi un posto un posto dove questa cosa abbia comportato una garanzia di copertura di tutto il territorio e non solo di una fetta abbia garantito elevatissimi livelli di performance e di skill oppure bisogna dire che in molti posti dove questa cosa si fa guarda caso alcune alcune rilevazioni non vengono fatte non vengono fatte perché sarebbero problematiche perché metterebbero alla luce dei problemi che poi per affrontarli bisogna cambiare il modello e quindi facciamo meglio non misurare così non vediamo determinate cose ok e bisogna accettare che che uno abbia fatto scuola di specializzazione in medicina in emergenza in urgenza scuola di specializzazione in anestesia in emergenza territoriale medicina generale eccetera eccetera ma abbia lavoro qui devo avere quella forma lì omogenea lavoro là devo avere quella forma lì omogenea e aggiungo bisogna usare tutte le forme contrattuali disponibili che oggi sono tre tre per il 118 è l'idoneità all'emergenza territoriale e la convenzione all'emergenza territoriale per l'attività ambulatoriale esiste la convenzione di specialistica ambulatoriale medicina all'emergenza urgenza e c'è e non viene usata da nessuna parte non si sa come mai e per l'attività ospedaliera c'è la dirigenza medica di primo livello di secondo livello va bene di medicina all'emergenza urgenza capite che c'è un panorama ampio ma i gruppi di lavoro devono essere omogenei i contratti devono essere omogenei in qualunque settore in qualunque azienda qualunque MBA insegna che non puoi avere oltre un certo livello una miscellanea perché non regge e comporta uno sforzo poi di gestione manageriale per mettere insieme strutture contrattuali diverse dove qualcuno poi ovviamente rischia di essere sempre trattato peggio degli altri ma voglio dire oggi ci troviamo in diversa realtà in Emilia Romagna in particolare questo problema esiste dove ancora si vuole perpetrare un modello che per vent'anni ha dimostrato tutti i problemi del mondo e che non si è voluto sistemare non si è potuto sistemare per via della cocciutaggine di chi voleva sempre di più in questa logica di creazione del medico unico dell'emergenza che è il problema dei problemi il medico unico dell'emergenza è il concetto che va eliminato per come la vedo io in più di 22 anni di emergenza alle spalle ok perché ho cominciato a 18 a vedere questo mondo quindi il medico unico dell'emergenza è la cosa più problematica che ci sia impossibile infattibile un sogno sbagliato sbagliato perché non c'è il cardiologo unico della tutologia non c'è l'anestesista unico rianimatore della tutologia ognuno fatta una branca una disciplina poi sceglie l'ambito di attività e finché non si ha il coraggio di cancellare dalla mente di determinati soggetti questa visione del medico unico tutologo e fa tutto non ne usciremo dall'emergenza di urgenza perché buona parte dei medici questa cosa non l'hanno capita e non la vogliono assolutamente e sono la maggior parte un'altra parte dei medici non ha capito questi meccanismi perché è ancora giovane nei sistemi guarda a stare nel sistema un po' e poi magari a fare altro e questo è il caso di una grande quantità di liberi professionisti gettonisti eccetera e un'altra parte di persona dipendente non è soprattutto giovane appena inserito all'entusiasmo di quello che inizia non ha dice sarebbe bello sarebbe bello sarebbe bello ma non capisce che determinate logiche dinamiche non sono poi sostenibili su un lungo periodo e che purtroppo non si può avere tutto nella vita bisogna fare delle scelte bisogna scegliere in che punto stare in che parte stare e poi da qui ovviamente se ci fosse il modello ben definito si potrebbe comprendere qual è la soluzione di iterazione dei sistemi perché qui non vuol dire il discorso che ho fatto oggi non vuol dire che devi separare con l'accetta vuol dire che i sistemi possono interagire funzionalmente interagire non integrarsi interagire funzionalmente anche con una minima quota di supporto gli uni agli altri ma non possono essere delle miscellanee fino a che il problema sostanziale non è stato risolto il problema sostanziale è l'inquadramento ospedaliero attuale il fatto che uno sia costretto fondamentalmente a una vita in pronto soccorso fino a 70 anni con notti festivi con più della metà del tempo in cui lavora in orari in cui il resto del mondo non lavora e ovviamente a fronte di remunerazioni riconoscimenti e vantaggi sul piano dell'età pensionabile sul piano del carico di lavoro che c'è che è 5 volte di più che non è assolutamente comparabile finché non risolvi quel problema tu l'emergenza urgenza non la risolvi e quindi per fare questo devi dire che il contratto dei medici dell'emergenza urgenza ospedaliera deve essere un contratto diverso da quello che è oggi deve essere un contratto a parte deve essere un punto che ha dei privilegi che ha delle cose a parte perché uno che ha rischio radiologico ha i giorni di riposo in più e il medico di pronto soccorso che non ha rischio radiologico che però si fa un culo dieci volte stando alla letteratura quello i giorni di riposo in più non li ha questi sono i problemi che vanno risolti ma bisogna risolverli con un approccio diverso con una mentalità diversa una mentalità che non vada a ripercorrere scelte e tentativi fatti per vent'anni che per vent'anni non hanno funzionato e che si continuano ciclicamente a riproporre ottenendo assolutamente nessuna prospettiva di buon risultato io vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e soprattutto anche ai colleghi specializzanti che spesso mi scrivono perché sono un po' diciamo delusi disperati a questo sistema vi dico non fatevi ammaliare da facili modelli che magari oggi vi sembra viano una speranza un vantaggio eccetera ma che non sono sostenibili non sono sostenibili per il sistema perché noi dovremmo avere come primo obiettivo di garantire la migliore assistenza su tutto il territorio non su un presidio magari facendo la rotazione verticale come la chiamo io cioè la rotazione verticale vuol dire io sto in questo ospedale e sto magari nell'automedica più vicina a quell'ospedale per il 118 perché non funziona invece devono essere reti parallele come tra l'altro disegna il decreto 70 la rete dell'emergenza territoriale e dell'emergenza ospedaliera dovrebbero essere reti parallele i medici dell'ospedale che ruotano tra sedi ad alto e a basso volume bilanciando i carichi di lavoro e anche bilanciando la turnistica stessa cosa per l'emergenza territoriale che sono fatiche diverse sono approcci di lavoro leggermente diversi anzi leggermente molto diversi in alcuni casi e organizzazioni contrattuali giuridiche diverse una volta che si fa questo poi sui margini i modelli si trovano anche di interazione ma diventa difficile sostenere sul lungo periodo quello che gira tra tutto ospedale territorio dentro fuori su fuori dentro nelle sedi della montagna del cucuzzo è infattibile ingestibile ingestibile soprattutto con addirittura un'ulteriore inquadramento distinto io vi ringrazio di aver seguito fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e a presto ingestibile capisibile